Nel mondo uno è di mestiere, trova le parole giuste, che li sa mettere in un modo, che quando gli batte il cuore a lui, gli fa battere il cuore anche a quell'altro. Se non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino, noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. Saluti in poesia di Agnese Monaco. E ben trovati in Saluti in poesia con Agnese Monaco, grazie per la linea al drago e a Gaglio Vodò, questa settimana vi leggerò la poesia intitolata Si ricomincia sempre. Si ricomincia sempre a notare, a giocare, al numero delle lacrime, alle nuove sul viso, al profumo di un temporale, alle lumacchie sulle foglie, alle stelle splendere, alle nuvole che coprono cieli, stanchi di risplendere, mentre ci saremo nel domani. Si ricomincia sempre. Ed è un po' questo lamurio che forniamo a tutti noi, la questione di ricominciare, di andare sempre avanti, di vedere sempre il meglio per noi e per chi amiamo e per tutto, per tutti quanti. Bene, i miei contatti social sono su Facebook Agnese Monaco Official, la pagina mi raccomando, non richiedetevi l'amicizia, ma cliccate like alla pagina. Su Instagram Monaco Agnese, su Youtube Holly Agnese e perché no, se volete anche su TikTok dove potete trovare tante mie poesie, al seguente link. Agnese Monaco, uno scritto a numero. Non mi resta che salutarvi e ringraziare il Drago e l'Agnese Monaco per questo spazio di venerdì e vi attendo per il prossimo venerdì, sempre qui, sempre su L'Agnese Monaco, sempre nel Rock Night Show del Drago. Un bacio da Agnese Monaco, ciao!